Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Prima di iniziare però volevo ricordarvi che ho aperto un server Discord e che se volete unirvi alla gilda dovete prima fare richiesta tramite il server. Trovate il link in descrizione, mi raccomando entrate nel server, mandatemi la richiesta magari taggandomi ed io oppure il vice vi accetteremo in gilda qualora ci fosse naturalmente ancora qualche posto disponibile in gilda. Attualmente abbiamo tre posti liberi al momento che sto registrando questo video quindi mi raccomando unitevi al server Discord, fate la richiesta e anche se non ci sta un posto libero in quel preciso momento comunque avrete una sorta di precedenza rispetto a tutti gli altri che entreranno dopo naturalmente. Qualora voi siate ancora attivi e naturalmente continuate ad essere presenti in chat mi raccomando signori è molto importante perché dobbiamo scalare la classifica delle incursioni. Riprendiamo come detto da dove ci siamo lasciati, in questa zona non ci sta nulla da fare e noi eravamo rimasti in questa zona qua sotto che ancora c'era qualcosina da esplorare giusto? Qualcuno con cui parlare magari? Allora sopra vedo che possiamo fare qualcosa forse possiamo tornare indietro nell'agenzia e consegnare le viverne credo beh visto che ci siamo torniamo su dovrebbe essere questa no? e infatti è questa qua quindi consegniamo le viverne ci guadagniamo queste immagino 5.000 ormai tutti quanti ci pagano 5.000 ah il tuo sguardo significa che eccole qua ma quanto sono carine ah le vie pi ma perché sono così spaventate? scusate grazie mille ecco la ricompensa che avevo promesso ma perché sono così spaventate? 3.000 dollari ma che schifo è? avrete il momento andiamo cosa? c'è qualcosa che non va? sono tantino spaventate quelle viverne dove sta andando? ma ha una spada in mano? disobbedita alla mamma? ma scusatemi ma non mi sembra il caso abbiamo altro da fare cosa vuoi? ah dille il tuo pedinamento ah hai avuto successo? bene chiamiamola cliente ah vero perché avevamo anche il pedinamento in corsa non mi ricordavo quindi era con la sua amica per comprarmi il regalo di compleanno? esattamente in base alle informazioni che abbiamo presumiamo di sì presumiamo di sì dia un'occhiata alle foto squall e abbiamo fatto una foto non credo in un momento probabilmente adatto però ah questa donna è un'istruttrice di pilates nella palestra dove va lui quindi è andata così stava scegliendo un anello per me che imbarazzo non lo sapevo non c'è problema queste cose succedono ecco perché esiste la nostra agenzia investigativa grazie devi aver lavorato solo per un incarico così complesso ecco il compenso e aggiungo anche un extra mi dava il cubettino 2000 doll l'extra era 2000 dollari totale fa un po' schifo eh glielo dico e che cos'è cosa vuoi? eh niente non vogliamo niente perché ancora non ce l'abbiamo le monete necessarie tu non hai nient'altro da dirmi qua non c'è nient'altro da fare siamo a metà strada più o meno siamo a metà strada va bene dai per il momento ci tocca uscire ci tocca uscire e capire effettivamente quelle povere i viverni che fine hanno fatto ah qua c'è la chiave vedete io sta chiave dove diavolo la dovrei inserire? fatemi dare un'occhiata perché io aspetta 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 seguiamo prima quest'altra storia ascia verde la chiave segui la signora entra dentro quella casa va bene mi porto la chiave dietro non lo so portiamoci la chiave dietro magari dobbiamo entrare con la chiave che non ho la più palida idea non credo però eh no infatti non serve a nulla la chiave ehm preparo la cena ma si vuole mangiare le diverne ma lei è un po' ah ladro è un po' stupida eh mi scusi ma preparare la cena cosa? ma questo cos'è? non ne ho la più palida idea che devo fare? aspetta aspetta c'è qualcosa qua ah vedi? eh eh sta filando tutto liscio ma non fila liscio proprio niente ma dimmi tu ma sti poverine guarda ma no no non se fa così ehm che devo fare? la pentola in ebollizione ehi giovane che ci fai qui? evito che si mangia i draghetti direi che ha scoperto il segreto della mia cucina eh non fare quella faccia possiamo trovare un accordo se te ne vai e fai finta di non aver visto niente ti darò 7000 dollari demonici cosa ne pensi? no signori no se erano esseri umani avrei accettato ma ma sti poverini no assolutamente no bene direi che non ho scelta che vuole fare? anche se tu sei un ingrediente della mia cena ma quale scelta? signora ma si tolga si tolga per favore e comunque ce li ha dati 7000 dollari quindi sti cazzi e che cos'è? giustamente ce li aveva l'ammazzi e quindi ti prendi 7000 dollari e dai scusate dunque quindi è andata così si andate in questo modo poi le riverne sarebbero finita in pentola ok cosa ne facciamo di loro? ce le mangiamo? non lo so non lo so va bene va bene potete stare qui finchè non troverò una casa d'ora in poi sarò impegnatissima con queste best queste bestoline sono addomesticate vero? non lo so ma stavano si ma siamo troppo buoni vedi io devo fare il cattivo però come fai a fare il cattivo con dei cucciolini del genere? dai come detto se non gli esseri umani per fare il cattivo li avrei significati più che volentieri comunque alla fine abbiamo ottenuto in ogni caso le 7000 monete quindi apposto apposto vedo uno scontro no nessuno scontro ancora ci stanno quelli questo qua della polizia non ho capito siamo entrati in questo mino sapete che non mi ricordo ci siamo mai stati qua? assolutamente no questa è una zona nuova zona nuova con dei mostri da sconf mostri insomma gente da buttare giù arriviamo questa zona però l'abbiamo già vista scusate sì questa l'abbiamo vista e rivista no però da qua comunque non posso passare maledizione e qua non c'è nient'altro mentre qua c'è una scala che sarei sola abbiamo utilizzata sta scala? non mi ricordo no ok adesso l'abbiamo utilizzata e passiamo di qua questa è un'altra zona che non abbiamo ancora visto mi sa di sì va bene raccattiamo tutto quello che c'è sta in giro dobbiamo andare là sopra sembra abbiamo un obiettivo da seguire in mappa aspetta suona il telefono scusate sì suono Squall grazie 10.000 c'è wow wow sì sì partecipiamo immediatamente al minigioco allora ti va di provare certo scelta eccellente la prima missione è semplicissima c'è un telefonino che suona in una panchina in questo parco trovalo e rispondi panchina telefonino che suona nel parco qua eccolo sì dunque non me l'aspettavo eppure ce l'hai fatta mi sta prendendo per una faccia di idiota mi scusi beh una persona intraprendente come te non poteva essere da meno tu hai uno spirito nobile e vuoi portare a termine le missioni vero? sì il fatto che ti ho riconosciuto subito quando ti ho visto il tv tu e io siamo fatti della stessa pasta ascoltami attentamente se non fai come ti dico tutti quelli in questo parco moriranno se metti giù tutti moriranno hai capito? le tuffe telefoniche sono un non ho idea di cosa tu stia parlando ah ma è il cecchino? è il cecchino? la cecchina? adesso hai capito che cosa che è la cosa è seria? sì cecchina certo bene perché non iniziamo con un po' di riscaldamento? è semplice tutto ciò che devi fare è gridare devi gridare che non sei una persona eroica ma ipocrita che sei folle e ti sballi con le vittorie e i successi non penso che tu abbia compreso la gravità della situazione guarda bene ma sono dei robot chi cazzo se ne frega scusate e ammazzali pure c'è nel senso robot dai cerca di ricordarti questo sei tu che li hai uccisi vuoi provare con qualche altro bersaglio? sì chi se ne frega dai ammazzati tutti prendiamo loro con i bersagli cosa dici? farei come ti ho detto o ma no dai ma per forza ma non c'è va bene molto bene stai andando alla grande oh ti stai divertendo fratello? mi piacciono i ragazzi crudeli ti vuoi di venire nel nostro locale? se collassi per il bere io ti farò fare dei sogni incredibili dai metti giù il telefono e parla con me mi stai ignorando? mi stai ignorando ancora una volta? ma dai e che cos'è? allora? vuoi ignorarmi e basta? sto cercando di fare un po' di promozione almeno per finire che effetto ti fa? che la tua identità ora che la tua vera identità è stata smascherata non so parlare scusatemi che problemi hai? maleducazione? maleducato strappati al telefono ma scusate ma che modi sono? scusi ma sto parlando al telefono ma lei cosa vuole? che cos'è? ma tu guarda questa siete fatti nella stessa pasta ma chi? ma lei chi è? mi stai facendo soffrire? la prossima missione eliminala ai 12 secondi falla tacere o falla sparire altrimenti ci penso io questi cazzi? ah devo proprio spostarla così? ma se muore che succede? scusi no? è tanto per capire va bene non me ne frega assolutamente nulla si perfetto questo aspetta a noi però non esiste che spasso lo sapevo che guardando i video per la prima volta io e te siamo uguali Squall continuiamo con il gioco andiamo a fare i complimenti a quelli ma non fa lei trovo il neturbino e ricordati sono io a controllare il gioco guardi il neturbino stava tipo qua sopra no? eh salve buffa non mi va di pulire eh non pulisca guarda dovremmo ringraziarti e mi ritorno se il mondo demonico è così bello per questo è un peccato entro breve i nostri cari neturbini troveranno gli androidi che noi abbiamo ucciso e sarà il caos hai capito cosa intendo? pensaci su sti cazzi fai come vuoi divertiti divertiti no non voglio salvare nessuno in questo mondo così ecco morto apposta si così non c'è motivo di aiutare quei poveretti no assolutamente non me la frega nulla sarò cattivo però voglio essere un po' più cattivo siamo troppo buoni e che cos'è? non è divertente? che spasso era destina l'ultima missione trovi i bambini che stanno giocando nel parco il gran finale ci aspetta vabbè guardi non me la frega assolutamente nulla neanche dei bambini vuole vedere cosa ho fatto io qualche episodio fa non credo che lei è più cattiva di me mi scusi il prossimo pensiero sono quei due bambini non sono adorabili? no assolutamente no no dai non fare così il gattino non ce la frega nulla cosa? prendersene con i bambini e stai esagerando? che cosa dici? ma non è vero che stai esagerando lo sai quanti viti hai già spezzato? la vita ha davvero un parole? no soprattutto in un gioco va bene va bene se vuoi ancora fare la parte della persona giusta eroica te lo lascio fare non sparerò i bambini ma come no? che cosa sta sparando? una bomba? ah va bene ok ci sta ci sta non gli sparare guarda bene perché c'è qualcuno perché qualcuno ce la può fare le spiegazioni non servono adesso che il gioco abbia inizio no no vai tranquillo anzi io mi allontano prima che esplodo pure io si sa mai guarda bene boom morti a posto a posto che cosa si ride? sei il massimo lo sapevo che eroismo dicevi tanto dei bambini e poi non hai fatto nulla vero? no tu non hai fatto niente ah scusa mi stavo esaltando ma cosa si ride? è stato un vero spasso d'ora in poi ti chiamerò più spesso vero che mi risponderai? ah ho lasciato regalino vicino alla cabina telefonica non vedo l'ora del prossimo gioco a presto tesoro hai riattaccato regalino mi ha dato il cubettino? ah no mi ha dato dei dollari mi ha dato anche un cubettino vabbè signori sti cazzi di tutta la gente che è morta l'importante è che noi prendiamo i soldi e i cubettini siamo un po' più cattivi? si però dai ma non è possibile non funziona così tutti morti e noi non diventiamo più cattivi io questa cosa non la trovo affatto corretta che cos'è? possiamo ottenere qualcosa di infrescante? energy drink? prendiamo un energy drink hai comprato un energy drink al sapore di noodles dal distributore? e basta? nient'altro? questa bevanda condiene una miscela di noodles spezie energetica carbonica difficile e bella senza pungersi la gola c'è qualcosa scritto sopra il piccolo tappo sindi signori questo qua un attimino che ce lo conserviamo come numero perché sicuramente ci serve per la rapina oppure è un semplicissimo numero di telefono non ne ho la più palida adesso proviamo pure a chiamare eventualmente il numero di telefono no, non ci fa chiamare nessuno ok c'è altro da fare qua dentro? tipo qua sopra dove possiamo andare? ci ributtiamo nella città ok però posso scendere e qua sotto usciamo dallo stage proviamo ad uscire dallo stage o magari fammo dopo signori tanto ci manca l'ultimo cubettino quindi immagino che manca l'ultima missione da completare qua dentro no? seguiamo l'indizio cioè l'indizio l'indicazione che abbiamo in mappa per cercare di capire dove dobbiamo andare probabilmente ci indica sempre infatti qua dentro nella zona detective però cioè dopo che io entro qua dentro che cosa faccio? parlo con lei e basta nel senso cosa vuoi e non abbiamo ancora i soldi ce ne mancano 14.000 quindi io ancora non ho trovato dove inserire eventualmente la chiave non ricordo se ho visto anche sta zona quindi ci sarebbe anche questa da controllare molto probabilmente ragazzi prendiamo qua l'ultimo cubettino perché non so se vi ricordate ma lui voleva un piede di porco me l'ero completamente dimenticato quindi tieni il piede di porco giustamente deve rimuovere un chiodo e lui come lo rimuove? con un piede di porco io non credo sia l'opzione ma direttamente così non credo sia l'opzione migliore bene adesso posso guidare fino all'officina grazie vi devo un favore ora posso riparare la ruota almeno temporaneamente stavo andando a comprare a mangiare il mio cucciolo e sono non so cosa vorrei ripagarti ma con chi è cosa? cubettino? monete? insomma c'è sta un botto da roba il cucciolo che ha preso un osso? grazie per l'osso eh? ah questo è il suo modo di compensarti lui c'è molto affezionato prendilo che me ne faccio osso per cani? non si sa mai qualcuno potrebbe servire certo un osso per cani serve a tutti ok grazie non prendiamo qua l'ultimo cubettino e ci speravo onestamente ah ok la chiave serve in questo posto andiamola a prendere immediatamente il bello è che avevo anche visto questo personaggio o l'episodio scorso o due episodi fa adesso non ricordo però non ho minimamente fatto caso che eravamo nella zona della chiave non lo ricordavo salve ah mi hanno trovato mi dispiace mi dispiace mi dispiace non posso neanche permettermi di pagare gli interessi mi pagherò tutto incluso gli interessi ecco 2500 dollari demoniaci risparmati solo per stavolta ti prego non portarmi dal signor gazzo aaaaa 4000 dollari aaaaa sei proprio prudere ok ho fatto come ho detto quindi mi devi promettere non dirlo al signor gazzo scusa dove sta il signor gazzo magari ci paga aspetta però avevamo visto qualcuno ho un flash di qualcuno che chiedeva di qualcun altro scusate ho un flash devo recuperare qualcuno che chiede di qualcuno perché abbiamo bisogno di altre monete uh attenzione è reentrato là dentro e lui ha detto spero che le piaccia e il marito sospetto dell'incarico precedente cammina in modo strano e allora seguiamolo signori perché ha qualcosa di sospetto davvero aspetta 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 non avviciniamoci troppo nascondiamoci perché secondo me nasconde qualcosa lui a questo punto e scusa no perché se noi possiamo raccimolare altre monete che fai non le pigli dove è andato lo so perso guarda come corre che fa aspetta che diventa verde uh no aspetta no ma no 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 abbiamo perso di vista il bersaglio maledizione vabbè eh no aspetta mi scusi scusi eh riprova riprova ok rieccoci nuovamente qua adesso lui attraversa quale strisce sta continuando sta proseguendo stavolta non si è fermato e sta salendo di qua dobbiamo seguirlo senza perderlo di vista aspetta no è però maledizione dai prima se l'ha fermato poi non si è ferma sta stronzo evitiamo magari di farci scoprire a sto giro che fa si gira si è fermato e mo aspetta un attimo io però non so se aspetta sta lì sta lì ma l'abbiamo perso di vista ma non si può così ma mi scusi ma io che ne so secondo me devo giocare le tempistiche quindi tre due uno via vai 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 corri 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 e così andava fatto qua dietro qua dietro qua dietro ok a riseguilo non lo perdere di vista dove è andato dove è andato maledizione maledizione ok adesso veloci 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 seguilo 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 è andato di qua mettiti qua dietro mettiti qua dietro non farti vedere ok sei arrivato stronzo oh finalmente lo so che non è passato molto tempo ma mi sei mancato tantissimo anche tu a me stavo impazzendo lontano da te e allora andiamo a fargli le foto quindi con tua moglie adesso è finita si si ho ingannato quelle detective tonte così non ci daranno più fastidio per un po' mia moglie ha un lato ambiguo lo sapevo che avrebbe assunto qualcuno per seguirmi stavo recitando non so cosa non devi essere gelosa lo sai che sono tutto tuo corpo e anima preparati sto per insegnarti una posizione ottima ho teso in che senza la posizione mi scusi e no e allora quale foto gliele fammo e come se gliele fammo questi stronzi e che cos'è anzi ci facciamo scoprire va bene allora ritorniamo nuovamente nel nostro ufficio ritrovando la strada magari perché me ne so perso un attimino in questa zona labirintica e voglio capire tutto quanto alla moglie e che cazzo ci ha fatto impazzire per pedinarlo sto stronzo ora che ci penso forse c'è la nevi aperta un pochettino più comoda vabbè sti cazzi guardi abbiamo qualcosa da riferirle cosa vuoi eh guardi c'è roba da riferire non era chiuso quel caso hai scoperto qualcosa di nuovo guarda un po' ho capito com'è andata quindi se è vero cosa vuoi fare dobbiamo dirlo alla cliente o ma no diciamo immediatamente alla cliente si è la cosa giusta da fare mi scusi no dopo tutto quello che mi ha fatto subire è il minimo che la cliente lo deve sapere cosa che significa è l'anello ho l'anello che mi ha regalato mi spiace dovevo dirglielo abbiamo una nuova foto dì un'occhiata squall ecco di qua la foto guardi visto hanno i cuoricini sulla testa oddio come hanno potuto come hanno potuto farmi questo mi spiace è calpestato il mio amore la mia devozione quel porco un attimino è incazzata devo vedere il mio marito voglio sentire cosa ha da dire grazie almeno adesso so la verità ecco la ricompensa oh 3000 che sono comunque pochi e il cubettino finalmente abbiamo tutti i cubettini e siamo sempre più buoni signori non va bene sta cosa perché siamo così buoni voglio essere più cattivo scusate però voglio ritornare là voglio vedere che cosa sta succedendo non posso passare vai edizione vabbè fammi il giro l'arco salve cosa è successo ah tu sei fa ridere una donna che piange nel posto dove suo marito l'ha tradita pensavo di poter piangere senza che nessuno mi vedesse quando ho affrontato mio marito con le foto ha gridato e ha detto che vuole il divorzio mi è rimasto solo quest'anello e basta non ha nient'altro da dirmi me lo vuole dare a me l'anello magari me lo ripendo ok non abbiamo comunque ancora abbastanza monete maledizione dove dovrei andare a fare altri soldi perché qua credo di non poter fare altro abbiamo concluso tutte le missioni sì che possiamo ottenere immagino altre monete da altre parti della mappa dunque quasi quasi per il momento salirei di qua anche perché ci sarebbe ancora anche la stazione di polizia e quant'altro da vedere no abbiamo ottenuto le gemme quindi abbiamo completato anche quest'altro stage e no sblocchiamo una zona nuova ah non so se farla adesso però ragazzi probabilmente la faremo nel prossimo episodio per il momento sono curioso quasi di vedere la missione della polizia e poi ci salutiamo anche perché credo che stiamo andando un po' troppo per le lunghe sì vi sto schippando tutto il tragitto roba e quant'altro però già una quarantina di minuti di registro quindi non so effettivamente quanto possa durare il video e vorrei renderlo sempre di circa una mezz'oretta dunque andiamo alla stazione di polizia allora tecnicamente dovrebbe essere 138 quindi 1 e allora non è questo non è assolutamente questo perché qua non c'è style 3 ah 59,98 non so quanti ne devo inserire aspetta apriamo 59,98 apriamo 59,98 a questo punto c'è style 5 e il 9 adesso 5 9 9,98 non c'è style 8 maledizione e allora non so qual è il numero per fare la rapina cercheremo ancora abbiamo un codice non so dove utilizzarlo ma abbiamo un codice beh signori dai allora a questo punto io direi che per questo episodio possa anche essere tutto nel prossimo andremo ad esplorare quella zona nuova so che ancora c'è altro da fare anche in questa mappa altro da fare nelle altre mappe ma come detto pian piano recupereremo tutto vi invito dunque ad iscrivervi al canale lasciare like commentare condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info